Ciao amici, oggi faremo l'unboxing di un mega camion trasportatori e mucche Siete pronti? Facciamo di aprire la scatola Tornata Sì 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 Wow, è bello, è gigantisco Sì, è vero, è vero e 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 guardate che si stacca e queste sono le zampe per tenerlo in piedi ecco e 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 amici se vi è piaciuto questo video di questo camion meraviglioso allora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale seguite i nostri video seguite le nostre playlist e ciao a tutti amici